Non ci sono addi per noi, ovunque tu sia sarai sempre nelle nostre anime. Con questa frase di Mahatma Gandhi si chiude la pergamena in ricordo del compianto andriese Vito Di Cosmo donata ieri dal Calcit alla famiglia del 71enne scomparso a maggio scorso dopo una battaglia contro un male incurabile. Il ricordo di una persona buona che ha fatto dei viaggi in tutto il mondo e della generosità una ragione di vita, donare se stesso come nell'atto finale della propria vita, quando ha scelto assieme ai suoi familiari di permettere l'espianto delle corne. Lui aveva tantissimi amici, credeva tanto nell'amicizia, nella solidarietà, nella generosità, nel volontariato e da ultimo ha fatto il suo gesto di generosità donando le corne. Avrebbe ben voluto donare altro ma era devastato dal male e quindi lui che ha tanto viaggiato e ha fatto viaggiare gli altri continuerà a far vedere con le sue corne il mondo agli altri. Emozione palpabile nelle parole della sorella Angela e anche del fratello Michele, entrambi presenti alla cerimonia nella sede andriese del Calcit. Vito Di Cosmo era un sostenitore della storica associazione che si occupa in città da 37 anni dei malati oncologici e non mancava mai un appuntamento con la beneficenza. Vito era molto legato al Calcit, era molto legato ad ogni forma di volontariato, di aiuto, di aiuto sociale e era sempre presente nelle varie forme di solidarietà. Per il suo ricordo c'è stata da parte di un folto gruppo di amici una donazione al Calcit che ha voluto così ricordare a perenne memoria la figura di Vito Di Cosmo come esempio di generosità e donazione. Un amico di tutti, un amico conosciuto in città soprattutto per le sue caratteristiche umane, oltre per quello che era la sua professione, la sua operatività. Il pomeriggio, iniziato ieri con la pergamena Ricordo, è terminato poi con una messa in suffragio dei tanti soci e simpatizzanti dell'Associazione Andriese presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Un altro momento di emozione, a testimonianza di quanto l'attività del Calcit sia riconosciuta e riconoscibile all'interno del tessuto sociale cittadino. Abbiamo bisogno di questi sostegni, di queste persone, di queste personalità che essendo vicini al Calcit dimostrano quanto è importante la nostra presenza sul territorio a favore dei malati oncologici.